ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo lightburn come leggete sul piano di lavoro oggi parliamo di video flash remix perché video flash remix se vi ricorda chi mi segue magari se vi ricordate qualche mese fa avevo annunciato la partenza di questa iniziativa dei video flash video abbastanza brevi che trattano un argomento molto velocemente e li avevo tutti messi su una piattaforma italiana che taylora ho riscontrato che questa iniziativa non è stata diciamo accolta quanto magari all'inizio era stata anche accolta abbastanza bene però non è stata sfruttata come pensavo per cui cosa faccio quel video che secondo me hanno ancora una loro valenza li porterò una alla volta sul canale youtube e tra l'altro vedo che in questo periodo siamo in piene vacanze estive eccetera eccetera il tempo che molti dedicano al laser e al lightburn è un po' diminuito da me gli aiuto facendo dei video veramente brevi e adesso andremo a vedere uno di questi che tratta della messa a fuoco ci vediamo dopo il video in questo video parliamo della messa a fuoco la messa a fuoco è importante per lavorare bene perché se abbiamo il laser che ha fuoco per la lavorazione che dobbiamo fare sicuramente il progetto riuscirà veramente bello allora qual è il come si comporta in questa grafica vi faccio vedere appunto come è il fascio laser il fascio laser non è puntiforme ma fa una v perché la lente concentra i raggi in un punto ben preciso che è la la messa a fuoco quindi questa sarebbe la distanza focale che è quella fra la lente e il punto di fuoco preciso questo rappresentato dalla linea blu è appunto la linea del fuoco preciso dopo si riallarga e ritorna ad essere largo più o meno come quando era partito allora solitamente con i nuovi laser le case danno delle cose per distanziare il testa del laser dalla superficie di lavoro e quindi vi danno dei distanziatori oppure ci sono delle levette alcune eccetera eccetera però non sappiamo bene come la casa ha tarato la linea del fuoco con quel distanziatore ovvero sia se supponiamo che questo sia un mio materiale che devo tagliare la casa ha fatto il fuoco sulla superficie come alcune fanno oppure sulla metà di un ipotetico materiale da lavorare che non so come fa a saperlo quali materiali lavoriamo noi ma supponiamo che abbia fatto un'ipotesi che noi si lavora il 4 mm perché col diodo è la misura con i quali la maggior parte del diciamo degli utenti utilizzano il laser quindi cosa succede se avesse fatto questo e questo è un materiale da 4 mm abbiamo che il nostro laser sarà a fuoco praticamente a 2 mm dalla superficie e se il materiale 4 questa situazione è l'ottimale per appunto tagliare il materiale se invece il nostro distanziatore ci mette a fuoco perfettamente il diciamo il fuoco appunto sulla superficie avremo la situazione ottimale per un incisione quindi non esiste una cosa ibrida cioè o è ottimale per l'incisione o è ottimale per il taglio allora dobbiamo andare a capire il nostro distanziatore se ha una posizione precisa sul taglio o una posizione precisa sull'incisione questo lo dovete provare sperimentando quindi andando ad incidere una linea andarla ad aumentare o diminuire la distanza di 2 mm in modo da vedere qual è la migliore e quindi stabilire se la migliore è sulla superficie oppure spostata la superficie quindi io dico come faccio io io solitamente cerco il fuoco migliore sulla superficie in modo che quando devo andare a fare un intaglio questo sia il più pulito e il più perfetto il più fine possibile quando invece dovrò andare a tagliare mi posiziono il diciamo il distanziatore sulla superficie dopodiché andrò a spostare il mio laser leggermente più in basso di 2 mm oppure posso fare alzare il materiale di 2 mm in modo che mi vada a maniera proprio precisa il fuoco sul centro del spessore del materiale e verrà un bel taglio quindi non verranno delle brutte bruciature eccetera eccetera e verrà perfetto quindi ricapitolando voglio tagliare il fuoco deve essere a metà dello spessore voglio incidere il fuoco deve essere preciso sulla superficie che io voglio andare ad incidere allora io chiedo se il video vi è piaciuto come al solito di mettere il like iscrivervi al canale campanellina e così via e scrivete nei commenti se questo ritorno a casa dei video flash è di vostro gradimento oppure se diciamo poteva possiamo anche tenerli anche a parole di terror da tutte e due le parti però penso che andrò a dismettere poi telora perché ho visto che non ha avuto un grande appello questo sarà il primo degli appuntamenti e penso che lo farò per le prossime due settimane però ancora il video di questo di questo genere in modo che vi fate vi godete le vostre vacanze me la godo un po' anch'io perché almeno sono un po meno impegnato sul tutorial eccetera e adesso vi lascio vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana e al prossimo video ciao a tutti e ci rivediamo a tutti e ci rivediamo